Scusate, era finita la memoria, però bisogna dire che era bello South West! No, direi proprio di no. Come si può considerare questa mente? È un tesoro! È proprio un obbrio. Abbiamo cambiato di nuovo cameraman. Marco voleva fare l'altro World Trade. Lo sentirete con le sue scemente dalla parte 2. Le bestie sono incompatibili, avevo letto incomprensibile la prima volta prima di leggerla adatta voce, però vabbè, con i miei circuiti credo che lei terrà la compena la tua scappata. Ma non penso che le bestie abbiano un numero economiaziale. Ho cambiato voce, non ho voglia di fare quella voce tutta, se mi viene mal di guardare la cosa che la faccio. Gruppi di Pikmin. Stiamo giocando a Pikmin 2, cosa vuoi che stiamo a quel Pikmin? No, davvero? Non l'avrei mai detto. Allora stai zitto. Due monete. Io mi metto qua, così non vedete. Un tesoro, un tappo di bottiglia, che vale 100 euro. Come? Ovvero 10 cento. Uno stemma dissetante. Mi schiedevo che la figlia. Come fa uno stemma dissetarti? Boh. Come fa uno stemma dissetarti? Boh, come fa uno stemma dissetarti? Come fa uno stemma dissetarti? Ok, ho sentito. Questo buco sembra molto profondo. I miei sensori indicano la presenza di molti pericoli. Lui, ricordi che puoi regolare la telecamera con zeta e tizio in su, a sinistra e a destra. Vero? No. Lascia stare. La tua espressione sembra di no. Ottimo! Non preoccuparti, i tuoi piccoli ti seguiranno. Avvicinati al buco e buttati che così muori! Yeeeeh! E lo premietto per entrare. No. Peccato. Ok. Tanto sono un uomo di masquine. Tutti nel buco. Yeeeeh! Suicidi assistito! I piccoli mi assistono. Benissimo. Sì, sì, dannosi anche loro. Salvataggio eseguito. Livello 2 delle... Grotta rivelazione. Delle grotta rivelazione. Livello Shush. Come il Pindy e l'imperatore che non abbiamo ancora pubblicato. Livello finale che ci sarà il botto? No! Già! C'è un livello finale? Oh no! Muori, cavolo! Tutti morti. Oh, bravi. Finalmente. Oh, un mappamondo! Se non dai che fissi... No! Non è più morto. Oh ma ragazzi! Ma è incredibile che una cosa così grande sia rimasta sottoterra per così tanto tempo. Oh ma ragazzi! Ma siamo bassi! La forma della razza esterna, insomma, gli ha la superfice del FIERAMIETA visto. Dallo spazio! Ma ragazzi! Ma siamo bassi! Sia mica qui ad avere un'utilità immediata e non vale la pena mettere insieme agli altri tesori. Guarda, penso proprio che sì. Ma come si fa a sollevarlo? Sollevandolo! Credo che nemmeno 100 pigmi a rossi potrebbero sollevarlo, credi male! Ah, era più male invece. Cerchiamo già un bel po' di pigmi. Così, perché non sapeva fare. Forse sarà un po' difficile. Forse. Decisamente. Muore, bastardo! Ok, ci si vede una luce nell'oscurità. Bene, tutti morti di nuovo. Ehi un altro! Muori! Ehi! E' morto! Che strana! Quello non sapeva mica lucciole! No, non sono lucciole, sono fiori! Ecco, mi sembra strano. Ecco, mi sembra strano. Muori baru barabà! Ta, 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 ferma un attimo. Rispondi un attimo.